yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con una nuova reaction ovviamente prima di partire voglio dire una cosa questo video è fatto principalmente per dare una giusta spiegazione sul come iniziare e come approcciare il gioco ovviamente non è una reaction a caso perché già il fatto che serve per fare una giusta spiegazione mi fa intendere che hai già visto sto video no non l'ho visto me lo tengo sempre per i momenti migliori io adesso partirei iniziando a parlare di come iniziare o ricominciare nel senso perché attualmente tanta gente è defluita all'interno della community di yuki cosa che non succedeva così da anni cioè neanche la pandemia aveva portato così tanta gente a giocare diciamo la pandemia aveva portato gente a dire cazzo con questa carta posso fare i soldi compriamola non è andata così è perché i prezzi sono crollati siete solo dei figli di puttana che hanno fatto alzare per un anno i prezzi delle carte ma dettagli diciamo che la fitta grossa di giocatori che è entrata all'interno del gioco è entrata grazie a master duel quindi grazie a dio la conami ha fatto un gioco che ha senso di esistere non come cross duel come dicevamo anche nel podcast secondo me è stata una delle mosse di marketing più belle che ha fatto la conami sì sì ma sono d'accordissimo cioè quel gioco l'hanno streamato tutti per dirti tutti perché ho visto anche panetti panetti streamare master duel blur streamare master duel nel senso nel momento in cui blur ti stream a master duel capisci che probabilmente il gioco è andato virale e quindi chi ha iniziato e chi ha ricominciato è partito da lì poi nel senso non è un vero e proprio simulatore di yugi perché ha delle sue regole ha una sua banned ha dei suoi modi per non ha tutte le carte cioè ottenere le carte perché comunque devi sbustare diciamo che è un'esperienza a 360 gradi su qualcosa che assomiglia a yugioh e quindi è anche il motivo per il quale io mi sentirei forse di sconsigliarlo da chi vuole ricominciare a giocare io cioè secondo me il video cioè da questo momento in poi dobbiamo rivolgerci a una persona che magari ha già giocato a master duel e decide di iniziare a giocare il vero yugi nel senso il competitivo comunque sia il gioco fisico diciamo che secondo me il master duel è quel punto che dice ok voglio provare il gioco oppure voglio vedere un po come il gioco senza andare su un simulatore che non mi dà niente vado lì poi da lì parte tutto se parliamo di una persona che proprio non ha mai giocato a yugi forse sai cosa che consiglierei di master duel la parte di campagna da solo le prime proprio le prime parti dove ti insegna in maniera step by step proprio le regole base del gioco ok su questo ti do ragione come evocare il link perché lì è strutturato bene nel senso che è fatto tutto quanto che ti fanno quei mini incontri strutturati dove ti hai proprio le carte forzate per farti attivare quella determinata meccanica piuttosto che un'altra è fatto molto bene secondo me aiuta molto a imparare ok su questo ti do assolutamente ragione perché tanto o vai così o ti guardi un video su youtube o ti leggi il manuale che nel 2022 non ha senso di essere letto esatto detto questo passato ormai il momento master duel tocca nel senso scegliere un mazzo probabilmente se una persona ha iniziato con master duel sceglierà qualcosa che ha già testato sulla più sul sull'app quindi probabilmente di ma deve partire da quello che ha fatto perché ci sono tanti mazzi che su master duel sono giocabili e in tcg no quindi deve partire dall'idea di quel mazzo lì e poi vedere se effettivamente gliene vale la pena sì sì poi può essere che nel competitivo funziona peggio non perché proprio il competitivo perché ma perché la banner è differente ovviamente sì se vuoi fare le cose fatte per bene tu che ricominci meglio che ti sposti su un simulatore e vedi effettivamente cosa gira nel competitivo ti monti il mazzo seguendo quella che è i crismi del del competitivo nel senso quella è la banner quelle sole entra esatto però considera che stiamo parlando una persona che ancora non deve iniziare quindi partire proprio dalle basi dalle basi dalle basi dalle basi nel senso seguendo proprio l'idea di anto show lì è vero il primo punto cadetto quello che eravamo d'accordo ovvero prima devi capire che tipo di player vuoi essere se competitivo o casual ok perché io direi che questi consigli che diremo da adesso in poi parliamo a una persona che si vuole avvicinare al competitivo giusto no ovviamente se sei uno che gioca for fun non c'è c'è non c'è prendi quello che ti pare gioca questo video sì esatto quindi sono solo avvicinare al competitivo innanzitutto deve capire che esistono dei mazzi da meta per cos'è il meta i mazzi da meta sono quei mazzi che fanno top a determinati eventi gli eventi sono di varie difficoltà perché abbiamo io ts abbiamo che sarebbero dei tornei locali sono importanti dei local vabbè ci stanno i local lo ts championship regionali nazionali i cs europei e poi il campionato mondiale se arrivi a quel livello sicuramente non ti serviva questo video diciamo esatto questi tornei come l'ha detti adesso cap sono in difficoltà crescente e quindi più il torneo è importante più in alto nella scaletta caduto adesso più i mazzi saranno differenti nel senso più avanti più ci saranno sempre meno varietà di mazzi diciamo che nì nel senso al local puoi trovare qualsiasi tipologia di mazzo già lo ts championship quasi completamente il meta regionale quasi completamente il meta l'ics è quasi completamente il meta il nazionale stessa cosa il meta nì perché i primi turni sai poi becca quel mazzo del cazzo del tipo che ha voglio farmi l'evento grosso perché tanto si è aperto a tutto all'europeo c'è solo il meta oppure qualcuno che ha detto cazzo questo mazzo può funzionare bene contro il meta e poi al mondiale per chiunque non lo sapesse esiste una band che è l'unione dei quella tgc o cg un po come master duel per permettere sia ai giocatori occidentali che orientali di potersi scontrare quindi quello che esce fuori come risultato dal campionato mondiale non conta niente perché nel pratico non è la meta nostra e non è il meta loro quindi una volta che sai più o meno quali sono i mazzi che toppano a un regionale quali sono i mazzi che toppano a un ics già io prenderei sempre come punto di riferimento gli ics perché sono essenzialmente la cosa più più simile a quello che è il competitivo nel senso è quello tanto gli ics ce ne sono un milione in giro l'ultimo ne abbiamo pure parlato sul canale che tipo era tutti tier una roba del genere quindi mentre un regionale magari ti trovi un po più di varietà di mazzi quando poi vai a un ics in top in top chi vince se vuoi avere possibilità di vincere avere un mazzo che è un t1 t1 e mezzo comunque sia mazzi abbastanza forti abbastanza forti e costosi poi un mazzo da cosa composto carte magia trappola mostri link x is fusioni ancora più un po meno generale guarda da mi sono sentito dire nel corso degli anni un mazzo deve essere formato dal 75 per cento di no il 50 per cento di mostri 25 per cento di magia 25 per cento di drappole e tu li capisci che il mondo va rotoli che meritiamo la guerra la pandemia e tutto il resto secondo me ce la considera da sapere che ogni mazzo è composto da una base mazzo il core che sarebbe quelle carte che sono sprettamente di archetipo esempio voglio comprarmi un mazzo sword soul ci sarà gran parte il core che saranno tutte le carte sword soul o tanky quello che sai che sia e le staple le staple sono quelle carte che vanno giocate in tutti i mazzi sono le carte generiche diciamo che poi uno deve iniziare lo deve sapere secondo me sì sì ma poi diciamo che le staple variano da meta meta nel senso il meta nel pratico si evolve ogni 10 15 giorni quindi può darsi che in un momento nel tuo mazzo forte dark ruler nel quale esce l'espansione non è più forte dark ruler è meglio droplet oppure le sostituisci metti hash ci sono mazzi che settano giochi lightning ma lightning nel tuo mazzo non funziona e quindi devi giocare cosmic cyclone twin twister diciamo le staple variano molto poi ovviamente oltre le staple ci sono anche dei core aggiuntivi nel senso posso giocare sword soul poi sono altri reparti di altri mazzi che possono essere ibridati a quello che è il core principale nel senso posso giocare mazzo x con reparto brave token che non è non sono staple è un insieme di carte è un engine che si ibrida bene al core del mazzo principale che tanto normalmente almeno per come giochiamo nel 2022 non esiste un mazzo forte esiste il mazzo che si ibrida ad altre cose anzi nel 2022 abbiamo visto l'emblema di quello che è sbagliato nel gioco perché è uscito un mazzo tier lamens non so se lo conoscete ultimamente ha fatto qualche top che è uscito doveva essere il mazzo scarso nel dell'anno cioè nel senso sprite doveva essere più forte poi questo tier lamens ha detto ma partiamo con curioso poi non me basta proviamo a giocarci anche gli shizu belli cazzo potenti però però possiamo fare un power up sì cos'è cos'è in foto l'ipernova i cash tira interessante ha c'è quello che banna dall'extra potrebbe essere potrebbe uscire un altro zero ibridiamoci anche con quello a scusa è uscito lo structure deck dark world bella la fusione cazzo fa o meno uno all'oppo ma buttiamoci anche quella dentro tanto ma possiamo giocare re delle paludi diciamo che questo è tutto quello che è sbagliato cioè l'eccessivo di quello che abbiamo detto prima esatto poi ci sono sono usciti quest'anno forse l'anno scorso ma quest'anno siamo anche due quelli che siamo nel 2020 nel 2022 sicuramente l'anno scorso non so se 2021 o 2022 ecco quelli che sono poi considerati i motori engine per eccellenza che sono i brave i punk è stato un periodo che venivano ibridati in qualsiasi mazzo sì ma poi c'è anche i danger su qualcosa nel senso lì lo vedo proprio più come archetipo qualcosa che si ibrida è più ethereum sono vari li puoi mettere un po ovunque oppure gli invoked anche quelli gli splash un po un po ovunque diciamo poi dipende sempre da mazzo a mazzo ah i visti a sì anche cioè siamo dimenticati nel pratico i più forti esatto che sì ah bello lubelion bello però prendiamo quelli super e basta giochiamo quelli e mettiamoli ovunque tanto vincolo da soli no vincolo però però ci siamo molto da soli e questo qui mettere tutte queste informazioni qui nella prima parte ovvero io prima ancora di pensare anche solontanamente di comprarmi un mazzo mi informo in maniera generale su cos'è yugioh le regole principali come è composto un mazzo e cos'è il meta e come va il meta in questo preciso istante poi ovviamente ancora neanche ci penso a farmi il mazzo devo sapere come funzionano queste cose se non voglio buttare soldi e solo iniziare la maniera corretta poi ovviamente io da qui mi sposterei sulla scelta del mazzo anche perché si ricollega all'ultimo punto che abbiamo detto però mi studio bene il meta perché ovviamente nel senso puoi scegliere anche di non giocare il mazzo da meta ma essere competitivo però ovviamente rischi cioè si può rischiare di buttare via soldi quindi nel senso scegli il mazzo che ti piace lo testi che poi può fare anche schifo a livello competitivo però lo testi ti fai un'idea di cosa vai a giocare e poi da lì gli step successivi di andare a recuperare le carte ed è imprescindibile conoscere il meta proprio per questo motivo qui perché anche che io poi voglio farmi un mazzo che non sia strettamente quello da meta sto per certo che se poi vado a un torneo competitivo di livello medio basso in su mi troverò contro principalmente i mazzi da meta si no anche che poi decido di non farmi uno di quei mazzi devo sapere come giocano e come giocarci contro ma a parte questo partiamo proprio in basso nel senso andiamo al local un'idea di quale mazzi possiamo trovare cioè non dico che ci devono essere per forza tutti i mazzi da meta però nel momento in cui sai quali sono i mazzi più forti che girano già ti sei fatta un'idea di come gira il gioco poi ovviamente ci saranno che potresti beccare nel mucchio anche dei mazzi più deboli i mazzi più deboli soffrono delle stesse cose che soffrono quelli forti e alla fine esatto cioè il risultato è quello sono d'accordissimo poi e a questo punto arrivi a sceglierti un mazzo che ti piace come fai parti dal il budget che tu hai vuoi iniziare quanto mi costa ricominciare per questo qui pure è una domanda che è difficile da rispondere se ci pensi mi nel senso secondo me una persona che se vuole approcciare al competitivo parte già con l'idea che il gioco costi perché ragazzi svegliatevi tutti i giochi di carte costano soprattutto se sia che collezionate che fate il competitivo quindi non pensate di poter arrivare a giorno x che comprate il mazzo e dite cavolo io voglio monta tier però non voglio spendere più 70 euro perché a quel punto giocata magic giocata power le carte sono comuni vi divertite con quello perfetto quindi a questo punto dobbiamo scegliere avendo un'idea di un budget il mazzo che vogliamo e come spendere come facciamo io il consiglio principale che darei a chi si vuole approcciare il gioco è sempre una volta vista la lista dei mazzi che fanno meta di non scegliere un mazzo che è esattamente nelle nelle prime posizioni della top quindi non un t1 un t1 e mezzo perché perché giocando capiranno che sicuramente ci vorrà parecchio tempo per entrare all'interno della meccanica di uvio per saperlo giocare al meglio e per riuscire a arrivare ad avere un livello di consapevolezza tale per cui da farli arrivare a vincere tornei importanti comunque sia anche che fosse non importanti però tornei anche che fosse un uts tornei che non siano local ok sì sì e un mazzo che già è un t1 durante tutto il periodo nel quale voi riuscite a riperire le carte lo testate imparate a giocarlo provate le varie versioni per arrivare a quella che si addice meglio al vostro stile di gioco e agli mazzi che girano ai vostri local al torneo a cui volete partecipare è ad alto rischio che esca una band e vi va a toccare proprio quel mazzo spesso fino a renderlo in giocabile ma potrebbe succedere sì ma a parte la band ed tu dici allora dai mi voglio monta riprendo sempre l'esempio di sprite io ricomincio è uscito power of element dico allora in giappone sprite il mazzo più forte bene compro sprite poi sai ti ci vuole un po procurarti tutto ti ci vuole un po a imparare il mazzo intanto tier lamens si ibrida con altre robe diventa il mazzo forte e alla fine te ritrovi che spesi un sacco di soldi per un mazzo che è stato sopravvalutato e alla fine quando tu arrivi a conoscere bene il mazzo c'è un mazzo che ti ha superato ed è cioè nel pratico a quel punto se sei appena se sei appena entrato nel gioco io partirei con qualcosa di più tranquillo anche per vedere infatti se te ci trovi bene col gioco esatto infatti io quello che consiglierei è di partire da un mazzettino rogue un qualsiasi rogue nel senso fuori lì perché c'è un'altra cosa fare nel senso uno deve capire che tipo che stile di gioco gli piace quindi sono determinati ogni mazzo ha un suo stile di gioco ci sono quelli più control quelli combo quelli midrange di più ne ha più ne meta principalmente questi penso mentre i anti meta ma quello una cosa un po parte aspetta tipo una roba come eldrich dove si posiziona nel nel gruppo dei mazzi per chi non c'ha le mani esatto sì 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 quelli per chi non so giocare no era per capire un attimo ok nel senso ogni mazzo c'ha una sua tipologia e stile di gioco e una sua difficoltà per imparare a giocarlo esempio se tu ti avvicini adesso al gioco non hai mai giocato io non consiglierei mai un mazzo come potrebbe essere un un tier lament oppure qualche mazzo che è eccessivamente combo come potrebbe essere un dragon link per una persona che può anche pendolo si appena avvicina o pendolo per uno che si è appena avvicinato al gioco andrei magari che ne so potrebbe essere buone idee o cioè se gli piacciono il combo perché non è detto che non dovete per forza giocare in combo è per carità però sono mazzi che giocano molto con la bravura del player e quindi voi sapete che anche che prendete un mazzo fortissimo che lo stesso identico mazzo copiato incollato da persona che ha vinto l'europeo più forte del mondo se poi voi non lo sapete giocare potete perdere tutte le partite sì fisso perché va molto con la skill del giocatore stavo di perché tanto comunque determinate scelte voi non potete capirle finché non giocate il mazzo per dire assolutamente cosa stupidissima e mitch te giochi exo sister e mario argirò non so se lo conoscete dell'armageddon team lui gioca una lista totalmente differente ha fatto top ovviamente puoi criticarla o meno però ci è arrivato in top e determinate scelte le sa perché lui ha testato e secondo lui funzionano e hanno funzionato ovviamente se tu giochi quel mazzo non sapendo il perché di determinate scelte potresti dire ma la lista una merda fa schifo perché magari potrebbe anche essere che la lista fa schifo e adesso non l'ho vista per bene però comunque sia potrebbe essere parlando ipoteticamente cioè non mi sto rifrendo argirò nel senso potrebbe essere che la lista fa schifo però lui è un player eccezionale e riesce comunque sia a farlo funzionare quindi io mi consiglierei magari una persona che inizia di approcciarsi a un mazzo che potrebbe essere magari anche solo un po più control questo perché perché hai meno possibilità di misplayare le tue giocate quindi di sbagliare le tue giocate e allo stesso tempo con un mazzo control tu devi saper giocare le tue carte al giusto momento per poter interrompere l'avversario e questo ti costringe a una cosa che sarebbe arrivata il prossimo punto che avrei consigliato ti costringe ad imparare i mazzi dell'avversario e a giocare contro i mazzi dell'avversario ed è un modo di giocare che ti permette gradualmente sia di migliorare le tue abilità con i ruling con il tuo mazzo in generale sia a giocare a tutti i tutto tondo contro gli altri mazzi no no ma secondo me il problema principale di giocare mazzi troppo combo è il fatto che tu possa dimenticarti di determinate cose nel senso se si vanno a generare tre o quattro catene al cimitero devi essere abbastanza bravo da capire ok meglio che faccia partire questa questo quest'altra oppure ok mi devo ricordare che in end questo search a mi devo ricordare che posso attivare questo in catena alla carta dell'avversario che l'attiva nel suo turno se ce l'avete troppe e non siete abituati a questo tipo di gioco rischiate che vi perdete vi perdete qualcosa andate a misplayare e perdere la partita quando in realtà poteva essere vostra esatto anche perché considerate che ci sono mazzi combo mazzi combo cioè se un principiante provasse ad approcciarsi che ne so a inferniti cioè io penso che anche tantissimi player bravissimi che conosco non sarebbero in grado di giocarlo al meglio perché un mazzo che ti fa dai 50 alle 60 special a turno c'è un turno ti può trovare anche 7 8 minuti ma sì senza interruzioni ho fatto una partita un sei samurai adesso non per per dire che sei samurai il mazzo più forte del mondo ma aveva mi aveva fatto una combo che era durata sette minuti e che nel pratico mi aveva messo sette negazioni più le settate che erano o quali erano settate erano tipo limite di evocazione e quello che mi obbliga a settare le magie fragrance cioè nel momento in cui vai sul troppo devi essere in grado di saperlo gesti bene diciamo a questo punto ovviamente adesso non vi andremo a parlare di tutti i rogue che ci sono adesso in circolazione più avanti uscirà un video con una tier list con i rogue che preferiamo fondamentalmente per una persona che volesse iniziare a giocare competitivo io sai che consiglio proprio l'exosister come mazzo no no ma attualmente i mazzi rogue e t1 giusti per iniziare anche se uno è un po diciamo un po me perché stai lì per andare in banded è exosister e flander cioè stanno su un budget accettabile perché uno non gioca di extra l'altro costa poco cioè con 150 euro te li fai entrare te ne fai tutti e due i mazzi ovviamente 150 uno 150 l'altro e c'hai due mazzi che funzionano e che non dico vincano però riescono arrivare bene in top poi ovviamente bright è un t1 costa un tantino di più però è ancora su un budget accettabile perché mi sembra sia sui 200 no forse qualcosina di più sì perché c'è i blu l'elf no più di 200 220 230 diciamo su una cifra accettabile il problema è che attualmente senza mina bisogna ibridarlo un po è runic però lì fai il cancro cioè giochi un mazzo che non è divertente quindi ragazzi ve lo sconsiglio detto questo dove reperire le carte mi sembra giusto ovviamente non sul sito di antoshow perché non ha senso perché non è neanche un sito gli scrivete su instagram e vi fa prezzi fogli se volete reperire delle carte ovviamente oltre magic corner ma ve l'ho già sponsorizzato ho il mio link di car market qua sotto in descrizione non lo consiglierei guarda il video era talmente lungo che mi mancava la marchetta esatto oppure oltre dico questo evitate chi vi fa le marchette chiunque sia oppure ovviamente i due siti dove comprare carte sono o facebook scrivete in qualche gruppo quello che cercate forse lo trovate o car market lì praticamente è un sito con tutti i negozi che vendono car ovviamente esatto non potete pensare di acquistare i minimi perché non esistono in quanto se volete comprare 70 carte il venditore che c'ha tutte e 70 le carte al minimo non esiste però diciamo è la piattaforma dove indicativamente trovate tu fate sempre la spedizione con raccomandata no posta 1 assolutamente posta 1 vabbè con la tracciata in ogni caso la raccomandata costa di più io con la posta 1 siete già tutelati car market nel caso vi rimborsa la spesa se il pacco non arriva e come terzo e ultimo modo anche ai local cioè io consiglierei anche di iniziare a girare alle proprie fumetterie vicino casa perché c'è sempre qualche player che è un po' più navigato e vi sa dare una mano vi viene incontro si vi da sicuramente una mano vi può vendere qualche vasetta magari anche sottoprezzato attenti acquitivi in fumetteria loschi che vi guardano e dicono ma c'è qualcosa cosa che cerchi va bene posso trovarlo un amico ovviamente però ci siamo dimenticati di due punti fondamentali secondo me dovevamo parlarne prima ovviamente il primo è la molle dei simulatori che esistono perché sì ne abbiamo parlato ma non abbiamo detto quali nel senso esiste vabbè master duel ma non è un simulatore i due simulatori automatici sono edo pro e yugioh omega che nel senso se volete fare una partita veloce sono i migliori edo pro poi lo scaricate da discord non esiste un sito ufficiale perché non è ufficiale mentre il simulatore che nel pratico vi aiuta molto di più a imparare a giocare però nel senso non dovete misplay a e dovete dare una mossa è due l'inbook diciamo che è quello che assomiglia di più a una partita reale quindi perché a tutti gli effetti quasi una partita reale sì il fatto è che tu devi ricordarti di tutte le cose mentre roba automatica come dopo e omega ti dicono già cosa devi attivare nel senso aiuta tantissimo il real non c'è nessuno che ti dice guarda devi sacciare al cimitero mentre per quanto riguarda il secondo punto è cioè riguarda le staples ragazzi diciamo che queste dovete recuperarle prima o poi vi servire i soldi dovete tirarli fuori diciamo che attualmente la konami vi è venuta in aiuto noi infatti abbiamo già fatto acquisti quest'anno perché tra mamma tra i team tra maze of memories che esce a marzo la conami va riprintato tutto se adesso non volete spendere soldi perché qualche scuro motivo non volete spendere piatere più avanti ma sapete già che i prezzi delle carte saliranno di nuovo noi evely l'abbiamo comprate all'uscita di mamma e l'abbiamo pagate 15 euro spedite adesso il primo play set sta a 17 luna più spedizione se volete giocare e volete darvi al competitivo questa è roba che dovete assolutamente prende e c'è anche da dire che questo è il periodo migliore in assoluto per ricominciare perché l'anno prossimo la konami non vedrà mezza carta riprintata quindi sbrigatevi considerate che attualmente per tutte le staple in tre per quelle che hanno riprintato ovviamente non parlo ovviamente di super poli che sta a 10 euro common tutta la roba che hanno riprintato tra tin e mamma con 200 a e anche blcr perché c'è access code con 200 euro vi fate un album di staple e con incontro coglioni perché c'avete tititi evely access code ash belle e tutte le altre sorelle shifter che sta una cazzata nibiru ragazzi non c'è santo che tenga e non c'è scusa che potete tirare fuori per di ma ci penso dopo che poi chi dice che ci pensa dopo è quella stessa persona che fra tre mesi mi dice è un gioco costoso cioè non posso spendere tutti questi soldi mi conviene smettere perché non c'è capito un cazzo e se compra al momento giusto forse risparmi qualcosa un'altra cosa importante che mi sento di consigliare prima di chiudere è che una volta che c'è il mazzo e tutto abbi pazienza nel senso continua a giocare quel mazzo finché non ci sei diventato bravo nel senso non iniziare a fare deck jumping come se non ci fossero domani nel senso che ti compri una basetta te ne compri un'altra te ne compri un'altra e ti ritrovi che sai giocare poco di tutto e in realtà sai giocare male tutto essenzialmente almeno finché non diventi bravo poi almeno il primo secondo me lo devi masterare bene sì 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 io sono delle idee che devi avere almeno un mazzo che sei certo che dici io di questo mazzo so tutto nel senso so che se faccio una partita se vinco è perché sono stato bravo se perdo è perché il mazzo dell'avversario era più forte nel senso perché ha visto è stato fortunato ha visto altre cose però nel senso non ho perso per colpa di pessime giocate mia perché sennò almeno un mazzo devi averlo così ma ovviamente ragazzi vi ricordo una cosa il senso ok conoscere il proprio mazzo è ma se volete buttarmi nel competitivo dovete conoscere anche i mazzi dell'avversario perché se no l'inculata ve la danno sempre tipo qualche super poli che fonde e genera cose a caso perché ovviamente non leggi target e te sei in cula è successo tutte cose che vengono con l'esperienza sì sì ovvio diciamo che questa cosa era successa con all'epoca con un wind a un costructo roba robe mistiche a ovviamente tralasciando tutta questa carrellata di roba in merito al competitivo se il formato standard non vi piace esistono anche i formati da una parte abbiamo got che è il formato del 2005 gioca carte iconiche che possono essere un fra dell'abilità due di meno o carità graziosa jinzo virus devasta deck cioè praticamente metà della banner d'attuale di yuki mentre dall'altra abbiamo edison che è il formato del 2011 che praticamente prende carte che sono del reparto dei primi sincro diciamo all'interno possiamo trovare mazzi come irobit come alla nera gadget misti pianta cioè roba nel pratico simpatica e carina da giocare ovviamente sono formati più lenti dello standard quindi se non vi riuscite a desteggiare troppo sul competitivo questa potrebbe essere una buona alternativa poi michael non è d'accordo a lui fa schifo qualsiasi cosa sia un formato però tantissimo lo standard ragazzi giocate standard io gioco a got a me piace un sacco edison ancora devo capirlo perché non ho avuto tempo di testarlo bene però ci sarà tempo anche per cui poi vi dico più avanti uscirà un video sia per quanto riguarda il formato got che il formato edison oltre all'idea e niente mi sa che abbiamo detto tutto a questo direi che è un video bello pesante è stato bello informativo diciamo che poteva uscire un podcast però secondo me qua dovevamo andare proprio dritti sul punto non potevamo cazzeggiare detto questo ragazzi vi ringrazio come sempre aver seguito il video fatemi sapere qua sotto con un commento se avete ricominciato da poco o sì grazie a questo video avete ricominciato perché sarebbe incredibile se mi sentirò e mi sentirei padre di dei bambini dei bambini va bene ma è una volta che cap ringrazia il povero ospite che sta qui alle 10 di sera il povero ospite ogni volta che viene qua ha dei prezzi di favore e a volte carte gratis non vorrei dire però detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo mercoledì sempre qua con il podcast ciao a tutti